I software di oggi ti mettono a disposizione decine di strumenti per gestire la color nelle tue immagini e questo ti dà modo di poter seguire anche delle strade differenti, degli approcci differenti all'editing in base al risultato che volevi trasmettere e non esiste sostanzialmente una tecnica o uno strumento migliore di un altro nel mio stesso canale ti ho portato tanti video differenti con approcci differenti per ottenere sostanzialmente lo stesso risultato molto dipende da qual è lo strumento con il quale ci troviamo meglio noi qual è la procedura che ci soddisfa di più, che ci rende più facile l'editing dell'immagine ciao ti do il benvenuto in questo nuovo video io sono Alessio, se non mi conosci sono un fotografo paesaggista che si occupa prevalentemente di discussioni fotografiche sulle Dolomiti e oggi voglio farti vedere una nuova tecnica per la gestione della color delle immagini che ho preso relativamente da poco da un altro fotografo però con la quale mi sto trovando molto bene e la sto utilizzando praticamente su tutti gli editing che sto facendo sulle mie ultime escursioni sulle ultime immagini che io ho realizzato prima di andare sul desktop nel mio computer per farti vedere di cosa si tratta ti voglio invitare ad iscriverti al canale se ti piace quello che sto facendo se non mi conosci vai a vedere gli altri video che ho realizzato magari iscriviti se ritieni interessante quello che sto portando puoi anche condividere questo episodio con i tuoi amici attraverso i vari social network telegram whatsapp facebook eccetera ma adesso andiamo sul desktop nel mio computer e vediamo di cosa si tratta ed eccoci qui sul desktop nel mio computer questa è un'immagine che ho realizzato in Val Venegia ormai tempo fa troverai qui da qualche parte il link al video dell'escursione fotografica se vuoi andartela a vedere ma quella è un'altra storia oggi vediamo l'editing di questa immagine concentrandoci soprattutto su tutto quello che riguarda la gestione del colore prima di iniziare questa immagine ovviamente va sistemata nei parametri di base dell'esposizione eccetera quindi magari potresti iniziare cliccando su automatico con adobe lightroom nella maggior parte dei casi i software modelli funzionano molto bene per quanto riguarda le impostazioni automatiche di base quindi può darti un buon punto di partenza per continuare nell'editing ci sono però delle rifiniture che vado a fare annullando la vividezza e saturazione impostate in automatico ad adobe lightroom e cambiando il profilo colore da adobe colore scelgo e ti consiglio adobe paesaggio trattandosi di paesaggi oppure se utilizzi delle fuji potresti provare utilizzare il profilo provia che lo trovo molto adatto per i paesaggi e adesso viene il primo passaggio per quanto riguarda la gestione della color il bilanciamento del bianco ma voglio fare una premessa in un precedente video qualcuno ha commentato dicendo che la tecnica suggerita era troppo semplicistica che si fa attraverso photoshop utilizzando dei profili lab insomma lo sappiamo che esistono delle tecniche molto avanzate per neutralizzare qualsiasi dominante nell'immagine eccetera sappiamo anche che ci sono delle persone bravissime nel fare l'editing da questo punto di vista però non è quello che voglio trasmettere io io voglio insegnare delle tecniche semplici, veloci per ottenere delle buone immagini per fare dei buoni risultati senza perdere troppo tempo dobbiamo essere più sul campo a fare fotografia e meno davanti al computer a fare editing quando alla fine poi il risultato che ottieni è sostanzialmente simile oppure non giustifica questa perdita di tempo perché dobbiamo ricordare sempre che la fotografia è comunque espressione di un qualcosa che noi abbiamo dentro vediamo l'immagine, vogliamo editarla per trasmettere qualcosa una sensazione quindi è quello che conta più dal tecnicismo ma torniamo qui su desktop e mio computer un metodo che ti posso consigliare per il bilanciamento del bianco è quello semplicemente di cliccare sul campionatore o selettore bilanciamento del bianco e sopra l'immagine cliccare su una zona neutra potrebbe essere qui come sulle nuvole quando c'è questa possibilità ad esempio io clicco qui mi va a neutralizzare o comunque bilanciare il bilanciamento del bianco potrò comunque gestire temperatura e tinta per dargli una dominante più calda o più fredda un consiglio che ho già dato anche in un precedente video è quello di aumentare vividezza e saturazione al massimo in modo da avere un contrasto cromatico ben evidente all'interno dell'immagine e capire se sto neutralizzando il contrasto cromatico come in questo caso da temperatura fredda o temperatura calda devo trovare un bilanciamento che ci può star bene ad esempio così secondo me ci potrebbe star bene e a questo punto vado ad azzerare vividezza e saturazione questa immagine però secondo me pecca un po' nella saturazione dei colori quindi vado a fare un intervento su questo aspetto ma lo faccio in un modo differente da quello che puoi pensare infatti non vado ad intervenire su vividezza o saturazione ma vado su calibrazione attenzione che tu potresti avere un'organizzazione degli strumenti diversa da quella che vedi in questo video l'ho già spiegato in un'altra puntata ma basta andare sopra gli strumenti tasto destro personalizza il pannello di sviluppo e poi riorganizzare i gruppi strumenti ma torniamo su calibrazione qui io vado a gestire la saturazione lavorando sui colori primari della nostra immagine rosso, verde e blu ad esempio su saturazione dei blu aumento la saturazione e vedi come aumenta proprio l'intensità dei colori faccio la stessa cosa sui verdi, sui rossi trovo il bilanciamento che mi può andar bene lo scopo di questo intervento è aumentare molto la saturazione deve essere proprio ben evidente ma non devo strappazzare l'immagine dopo, e lo vedrai, andremo a fare degli interventi molto più precisi per gestire questa saturazione che abbiamo a disposizione ma perché faccio la saturazione da calibrazione? perché mi permette di avere una saturazione meno distruttiva rispetto a vividezza e saturazione che avevamo prima e secondo me ti permette di avere una profondità nei colori molto più elevata rispetto ai metodi tradizionali quindi fatto il mio intervento, trovato il bilanciamento che ritengo adeguato posso passare allo step successivo che si trova su mixer colori quindi andiamo su mixer colori e andremo a lavorare non su colore punti ma su mixer agendo su tonalità, saturazione e luminanza e iniziamo con saturazione e adesso qui siamo proprio sul fulcro della tecnica seguila perché secondo me potrebbe essere l'approccio che puoi andare a utilizzare anche tu nelle tue prossime immagini quello che vado a fare è prendere questi slider dei colori e li porto tutti a meno 100 gli slider vanno da 0 a meno 100 a più 100 quindi li porto tutti a meno 100 il risultato finale sarà ovviamente un'immagine monocromatica questa qui è una base di partenza puoi anche crearti un predefinito andando qui e salvandoti il predefinito come modalità del mixer colori quindi deseleziona tutto e solo mixer colori eccolo qui salvandotelo in questo modo in modo tale da poter avere in un colpo solo tutti i colori neutralizzati e adesso guarda cosa faccio inizio dal magenta e lo porto al 100 e vado su e giù provo a guardare questo mi permette di capire se su questa immagine ci sono delle dominanti magenta qui non ce ne sono quindi la lascio a 0 continuiamo con il viola non vedo nulla lo lascio a 0 con i blu ovviamente qui compare il cero blu adesso il parametro lo imposto a meno 50 praticamente non a neutro 0 come era di base ma a meno 50 continuo con l'azzurro vado su vediamo si c'è un po' di azzurro lo lasciamo anche questo a meno 50 quindi lo scopo è individuare dove ci sono i colori e poi impostarli a meno 50 qui i verdi tu avresti detto che ci sono su tutta l'immagine in realtà colpisce solo alcune parti quindi lo portiamo anche questo a meno 50 eccolo qui i gialli ce ne sono molti meno 50 arancione molti e i rossi secondo te ce ne sono tanti qui? no in realtà qui di rossi praticamente non ce ne sono quindi posso lasciarli a 0 ma perché ho neutralizzato il rosso, il viola e magenta da questa immagine? ovviamente perché non avevano quasi nessuna incidenza specialmente il viola e magenta in realtà il rosso un pochino c'era ma lo scopo è semplificare il contrasto cromatico nell'immagine che sto gestendo quindi quelle dominanti che sono ininfluenti o sono talmente minime io posso andare ad eliminarle e questo rende più semplice poi la gestione dei colori che proprio compongono le fondamenta di questa scena oppure ti permettono di ottenere un'immagine più facile da fruire per l'osservatore perché il contrasto cromatico è molto più chiaro, molto più evidente senza tante dispersioni in tante dominanti all'interno della stessa ma continuiamo adesso che io ho dall'arancione al blu questo valore meno 50 vado a fare le regolazioni finali diciamo per quanto riguarda la saturazione e quello che faccio io solitamente è iniziando ad esempio dal blu prendere lo slider del blu e comincio ad aumentarlo e poi lo porto in basso insomma cerco di capire guardando la foto ovviamente con un monitor bilanciato tutto quello che ci va dietro cerco di capire qual è il bilanciamento che mi sta bene ad esempio se io lo lasciavo a zero vedi che il blu secondo me è un po' troppo intenso quindi lo riduco lo porto a questo valore ma lo faccio sempre guardando il video e muovendo lo slider non sto lì a guardare qual è il valore preciso poi passo gli azzurri incidono poco ma un pochino sì qua il verde qui voglio far comparire quei verdi lì a lato quindi questo mi sta bene vado avanti con i gialli qui sono troppi abbasso un po' qui potrebbe andar bene arancioni mi piacciono su ok e dopo posso fare i ritocchi comunque dobbiamo ricordarci che questi slider li puoi rimodificare quando vuoi ma hai visto che guardando l'immagine quindi non guardando i valori numerici ho dei bilanciamenti che sono molto particolari sono diversi da una sequenza tutti zero oppure una sequenza che trovi online dove ti dicono metti questo valore questo valore questo valore è molto personalizzata in base alla tua sensibilità a come reagisce l'immagine con i colori e la gestione delle dominanti ma andiamo avanti ora passiamo alla luminanza andiamo a gestire i colori dal punto di vista della luminosità prendo come riferimento la dominante quella che era più intensa che in questo caso era il giallo l'arancione quindi ad esempio con il giallo vedi che andando a zero o al massimo aumenta o si riduce la luminosità parto da questo per cercare di capire qual è la luminosità che mi starebbe bene per ad esempio la dominante principale questa qui bene vado avanti con gli arancioni vediamo troppo no potrei abbassare solitamente non serve fare tanti interventi qui sui verdi magari ecco i verdi un pochino i blu potrei decidere magari di scurire un po' il cielo ma senza esagerare viola magenta e rosso non li tocco intanto non ci sono però ti voglio far vedere che un po' di rosso c'era infatti muovendo questo slider agli estremi vedi che un pochino va a cambiare quindi i rossi in realtà c'erano all'interno un pochino della nostra scena ma come ti dicevo io voglio semplificare il contrasto cromatico per concentrarmi sui colori che sono le fondamenta dell'immagine passiamo allo step successivo ora passo alla tonalità e qui veramente c'è da divertirsi consideriamo che viola magenta e rosso non li tocco però agisco su tutti gli altri partendo ad esempio dal blu io qui posso cambiare la tonalità di blu nel mio caso non mi interessa toccarla mi va bene questa stessa cosa agli azzuri sui verdi qui le cose cominciano a diventare interessanti vedi da un lato aumentando il valore verde vedi che i verdi lì in fondo diventano molto brillanti però se vado al contrario diventano un po' più diciamo autunnali quindi potrei scegliere ad esempio di cambiare un po' la tonalità dei verdi sui gialli qui adesso l'intervento sarà molto più incisivo perché sono la dominante principale vedi verdi brillanti più primaverili così più autunnali anche qui molta attenzione a non farsi prendere troppo nell'editing quindi troviamo un bilanciamento che ci può andare bene stessa cosa qui per l'arancione vedi qui neutralizzi gli arancioni degli alberi invece qui gli esalti troppo però un pochino si potrei cambiare un po' la tonalità ok un piccolo intervento posso sempre vedere un prima dopo prima dopo come è stato l'intervento su tonalità, saturazione e luminanza ora magari ti aspetti altri passaggi in realtà no la tecnica è tutta qui è estremamente semplice e incredibilmente efficace tra l'altro la trovo molto personale molto istintiva intima anche perché guardi l'immagine e vai ad agire sulla saturazione la luminosità la tonalità sui singoli slider guardando l'immagine e riesci a creare proprio quello che vuoi tu quello che vuoi trasmettere c'è solo un consiglio ovviamente che do anche in altri video quando vai a fare l'editing dal punto di vista della color sulle immagini è quella che una volta terminato tutto chiudi e riprendi in mano l'immagine dopo un'oretta o il giorno dopo questo perché il nostro sistema occhio cervello ha un pregio difetto di adattarsi velocemente e facilmente alle dominanti e va a neutralizzarle e quindi magari riprendendo l'immagine dopo un'oretta dopo un giorno quindi dopo aver resettato un po' la nostra percezione dei colori anche guardare fuori una vista e paesaggio naturale luce solare tende a farti resettare un po' il tutto bene ti rendi conto magari che hai esagerato con le tonalità sballandoli un po' troppo con le saturazioni ma il bello è che puoi reintervenire quindi ritorni qui se è troppo satura vai sulla calibrazione e vai ad agire sui colori primari per quanto riguarda le saturazioni se vuoi fare dei ritocchi proprio di base puoi anche agire qui su saturazione togliendo un po' di saturazione proprio se vuoi fare un intervento generico ma io ti consiglio sempre magari di agire singolarmente sui canali specialmente tonalità e saturazione sono quelle dove magari si fanno un po' di malanni bisogna stare un po' attenti tonalità in particolar modo tante volte ci facciamo prendere la mano specialmente sulle foto autunnali andando un po' ad esagerare non ci resta quindi alla fine che guardare un prima o dopo per farci un'idea di cosa abbiamo fatto quindi tornando qui sull'immagine vediamo prima dopo vedi che l'impatto dal punto di vista della color è incredibile posso anche fare un confronto a lato prima o dopo quindi guardando proprio come è stato fatto il cambiamento con la divisione oppure in alto in basso eccola qui un'altra modalità questa qua magari mi rendo conto che ho esagerato un po' con determinate tonalità posso andare a sistemarle direttamente da mixer colori insomma è una tecnica che ti consiglio perlomeno di provare su qualche tua immagine per capire se è adatta al tuo modo di gestire la color delle stesse le persone tendono a trascurare queste funzionalità dei mixer colori sia sull'item sia su Capture One io la utilizzo in entrambi gli strumenti su Lightroom è un po' più comoda dal punto di vista della disposizione degli strumenti rispetto a com'è su Capture One ma funziona esattamente allo stesso modo provala e ricorda sempre che questo qui è un processo per creare una base dell'immagine l'immagine non è terminata qui da qui in avanti dopo si può fare tutto l'editing che riguarda l'utilizzo delle maschere la gestione delle luminosità delle varie aree dell'immagine insomma da qui in avanti poi si continua con l'editing questo qui è solo un processo di base per la gestione della color se ti è piaciuta vai qui sotto nei commenti fammelo sapere se il video ti è piaciuto metti anche un like a te non costa nulla per me è molto importante e ricordati di iscriverti al canale se ti piace quello che faccio perché per me è molto importante la maggior parte di voi guarda i miei video ma non è iscritta al canale pur guardando i video in modo abbastanza continuativo a me non resta che ringraziarti di avermi seguito fino a qui e noi ci vediamo al prossimo episodio ciao da Alessio ciao ciao